Sono anni che si cerca di operare verso la tutela dei cittadini, auspicando una maggiore sicurezza nelle strade, nei cantieri, nelle campagne, nelle fabbriche e in tutti i luoghi di lavoro. La realtà ci parla di incidenti quotidiani, alcuni mortali, che mostrano come esistono ancora grandi difficoltà nel mondo del lavoro, dove nonostante le azioni sindacali, le novità normative e legislative, le attività giudiziarie e tutti i provvedimenti e di controlli, la situazione sembra ancora fortemente presente e le soluzioni lontane, se non lontanissime. Gli infortuni sono tantissimi e con la ripresa economica del 2021-2022 e con un'escalation di contratti atipici a tempo determinato, la sicurezza viene messa in un secondo punto e quindi non l'attenzione necessaria che merita la sicurezza sul lavoro. Se si presta attenzione, se si applicano i regolamenti, se si applica tutto l'infortunio sul lavoro, non esiste, non dovrebbe esistere. L'ufficio provinciale del lavoro denuncia una carenza di personale, dove l'ASREM denuncia una carenza di personale, questo fa capire benissimo che le strutture che devono fare i controlli non hanno le possibilità per poterle effettuare. Quindi deve partire tutto da là, cercare di fare i controlli, cercare di essere attenti e soprattutto nelle aziende più piccole avere quel delegato alla sicurezza del lavoro. Certamente, è questo che noi vorremmo denunciare con una lettera aperta ai prefetti, di sensibilizzare il prefetto che è il massimo organo del governo sul territorio, di verificare questi numeri e far sì che questi numeri tornano alla normalità per controlli di normalità, come prevede la legge.